Il nuovo Palasport di Riccione si è presentato in grande stile all'hotel Lungomare, alla presenza di giornalisti, amministrazione e categorie economiche. In grande stile, appunto, come si evince dal progetto, Play All, questo sarà il suo nome, rappresenterà un ulteriore fiore all'occhiello della perla verde. Sarà teatro di eventi sportivi, indoor, nazionali e internazionali, ma anche concerti, meeting, convention, spettacoli teatrali e di moda. Senza dimenticare poi il relax e lo shopping, è un centro polispecialistico di medicina ortopedica, fisiatrica e medicina dello sport, è uno di educazione e rieducazione motoria, di idrochinesi terapia che ruoterà attorno alla piscina riabilitativa. Il palazzetto, insomma, opererà a 360 gradi, dando spazio anche alla microchirurgia estetica. La campagna di promozione è stata avviata dalla ditta Monacelli di Gubbio, che segue l'esecutivo del progetto da 10 milioni di euro. La ditta gestirà per 30 anni la struttura e cui spazi commerciali, tra cui confermati un bar, una gelateria, un negozio di sport e un'agenzia, sono già stati tutti venduti, nonostante all'inaugurazione manchino ancora 4 mesi. Una realtà che fa sorridere l'amministrazione per le ottime prospettive turistiche di Riccione.